Cetaria nasce dall'idea di esportare quella che era la nostra cucina tipica del piccolo borgo costiero al di fuori di quelle che erano le mura di Cetara proprio per dare possibilità a chi volendo arrivare in costiera ovviamente ci sono enormi difficoltà e quindi abbiamo pensato di fare una tappa intermedia tra quella che poteva essere Salerno e appunto la Divina Costiera proprio per dare possibilità a tutti quanti di approfittare della nostra cucina. Ecco la vostra cucina quindi deduque a base di pesce? Sì ovviamente tutto pesce fresco pescato del giorno da possibilmente dico io pescatori cetaresi ovviamente abbiamo dei fornitori che ci sostengono e ci supportano quotidianamente nella nostra attività cerchiamo di dare veramente un prodotto a chilometro zero senza strafare quindi piatti dalla tradizione nostra cucinati in modo semplicissimo con ottime materie prime. Ecco un'ultima domanda che poi è la domanda che si pongono in tanti e chiedono in tanti prodotto qualità prezzo? Il rapporto? Allora sinceramente penso di essere tra i più competitivi sul mercato proprio perché cuciniamo quello che di buono ci offre la banchina quotidianamente. Ecco e sulla qualità ci siamo sul prezzo? Quindi sul prezzo cerchiamo di comprare il miglior pesce al miglior prezzo se una cosa costa tanto non la compriamo cerchiamo di cucinare ripeto il prodotto di banchina secondo il quotidiano quindi oggi triglie domani alici a seconda anche dell'indice di mercato. Ecco e i clienti rispondono? Sì personalmente non mi aspettavo di avere un riscontro talmente positivo sin dall'immediato professionalmente sono enormemente soddisfatto economicamente altrettanto anche se ancora poco per fare grandi valutazioni. Grazie a tutti.